E' arrivata una nuova applicazione sia per smartphone, quindi sia per Android, che per iPhone, quindi per iOS, si chiama Quiz Patente, la nuova guida 2021. E' stata creata da un determinato organo importante e diciamo che è un'applicazione che serve molto. Infatti è un'applicazione gratis, gratuita, quindi che non bisogna neanche spendere un centesimo di euro per prepararsi al meglio in vista della patente di guida. Credo che sia sia A che B, però non ne sono sicuro, oppure troverete solo A B, non lo so, questo poi lo direte voi attraverso l'utilizzo che ne farete. Beh, è un'applicazione davvero utile, utilissima, ha un'interfaccia amichevole, ha un'interfaccia pienamente utilizzabile, sfruttabile, non è un'interfaccia brutta, schifosa o ostica. Ripeto che si tratta di una buona interfaccia grafica che viene a favorire, viene ad aiutare, viene a migliorare, diciamo così, il cittadino. E può essere utilizzata in maniera tranquilla e serena per chi vuole eventualmente, o meglio, perché ha intenzione di prendere la patente B o A, credo, per prepararsi al meglio andando a fare, o meglio andando ad eseguire, quindi svolgere i relativi quiz. Un caro saluto da Leandro, il narratore italiano, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Al prossimo video, una buona sera da voi, complimenti a chi crea questa app meravigliosa.